Marco Gelini, tecnico del ristorante Acqua Blu Volano Volley. Marco, serata storta sotto tanti punti di vista. Sofferto tanto soprattutto in battuta e ricezione, che è una cosa che mi hanno messo in grandi difficoltà. Noi sapevamo che loro battono bene, soprattutto in casa, con i loro palloni. Però far così tanti errori di posizione, e a me non interessa se dopo ti dico di stare avanti, e stai avanti e subisci il punto, ok, mi prendo la responsabilità io, ma se ti dico di stare avanti e subiamo i punti davanti, allora questo mi fa veramente... Arrabbiare. Ecco, bravo, sì. Dino francesesimo. Oggi proprio io sono stato schifato dal comportamento delle mie giocattrici. Questo non è restituire alla società quello che dà tutta la settimana, questo non è restituire alla società quel punto. Bisogna dire che è la classica partita da dimenticare in fretta, a voltare subito pagina. No, no, io la voglio ricordare. La voglio ricordare per far capire come siamo messi male, come gruppo, come squadra, come ambiente di squadra. È una cosa inconcepibile. Nessuna che si prende una responsabilità, nessuna che prova... E non sto parlando di alibi di assenze importanti o meno. Qua tutti hanno avuto la loro possibilità di dimostrare qualcosa e non hanno dimostrato nulla. È un problema di testa più che tecnico, tattico, di appuntatizzamento. È un discorso che tecnica non ne hanno tanta, perché come tante giocatrici altrimenti non giocherebbero in B2, giocherebbero in Serie A. Fisico c'è abbastanza, quindi abbina poca tecnica al discorso meno... beh, testa, non c'è testa. Che non c'è voglia di soffrire per la squadra, ma non c'è voglia di soffrire per la squadra. Questa è la quarta partita che noto questa situazione. È la quarta. A livello di classifica, adesso la guardia ancora, ci fai un pensiero o pensi soltanto come prima cosa a sistemare questi discorsi interni? A me interessa sistemare il discorso squadra. Tanto non è un problema, penso, classifica, salvarsi o meno. Non è un problema che abbiamo abbastanza a punto. Però è inutile lavorare in settimana con carichi di lavoro grandi quando l'esito è questo. È inutile. E non solo...